Musica Faccio parte dei fotomotori gioiesi Questo è il mio primo corso ed è la mia seconda uscita e infatti insieme ai nostri colleghi stiamo facendo un giro in Calabria stiamo scoprendo nuovi posti e appunto oggi siamo a Soveraio Mannelli è un paese in provincia di Catanzaro è un bellissimo posto, io non conoscevo l'esistenza infatti sono contentissima perché ho anche conosciuto le persone fantastiche e spero di aver fatto delle belle foto Grazie a tutti